Sono 96.365 i positivi test covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia su 641.896 tamponi effettuati, con un tasso di positività stabile al 15%. Secondo i dati del Ministero della Salute, 197 le vittime in un giorno, i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari 8.969, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 455. Grazie per la visione!